Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti per una nuova live, questa volta dedicata interamente a buchi neri e a novità riguardo a come osserviamo i buchi neri. In particolare parleremo di una nuova storica foto fatta delle vicinanze di quello che è il getto di un buco nero. Ora, quando parliamo di buchi neri ci sono un sacco di cose che potremmo dire, quindi potrei passare questa serata a parlarvene per le prossime 4-5 ore, per cui restringerò il campo ad alcune cose specifiche. Ora, dopo nella seconda parte, quando potete fare un po' più di domande, magari chiarisco alcuni concetti di base, per cui vi avviso già che andrò un pochino più veloce sulle basi e poi dopo magari ci torniamo. Questo per evitare di ripetere le stesse cose e perdere un po' il filo di quella che è la grande novità storica. Però iniziamo dalle basi, appunto, che avevo detto che sarei andato rapido, quindi prometto cercherò di fare del mio meglio. Però dovevo comunque menzionare questa cosa perché oggi è, beh, più o meno oggi, è un anno esatto dal rilascio della prima storica foto o immagine di quello che circonda un buco nero. Lo chiamiamo un buco nero in senso generico perché è un po' come dire abbiamo fotografato una città quando in realtà la città è al centro e c'è anche quello che circonda la città è più questione di definizione, però per quanto ci riguarda è davvero genuinamente la foto di quello che intenderemo come un buco nero se noi fossimo passati di lì con una navicella. Per cui guardando fuori dal vostro finestrino, girando per lo spazio, per l'universo, passando vicino al centro di una galassia vedreste una cosa del genere. Ora, questo è non particolarmente dettagliato, insomma, è il meglio di quello che noi riusciamo a fare con le nostre attuali tecnologie, quindi con navicelle che sono in grado di volare da una galassia all'altra, sicuramente vedreste qualcosa di più definito, però neanche così tanto perché in realtà il problema dei buchi neri è che appunto sono neri, cioè assorbono tutto quello che gli passa nelle vicinanze, perché è molto difficile vedere specialmente con i nostri occhi qualcosa di definito lì vicino. La luce ottica non è il miglior candidato in tutto lo spettro di luce per osservare questi oggetti, infatti la foto che vedete qui è in luce radio. Le onde radio sono semplicemente un'altra frequenza della luce. E cos'è che vedete in particolare qui? Cioè che cosa stiamo osservando di preciso? Beh, allora, guardiamo un po' più da vicino questa foto. Quello che vedete in alto sulla parte sinistra è il cuore della galassia M87, che è quella osservata per fare la foto di questo buco nero. E tutti i getti, tutta la materia che vedete intorno è materia che si è accumulata intorno al buco nero e sta cadendo verso l'interno. Quindi da questo punto di vista noi in luce ottica, se passaste lì, vedreste solo un casino enorme di materia che c'è nelle vicinanze, illuminata da radiazioni di stelle vicine oppure dal disco stesso di quello che il buco nero mangia e poco più. Quindi quello che possiamo vedere in realtà in luce radio e quello che passa attraverso questa polvere non viene assorbito o mangiato dalla polvere stessa. Per cui tutta quella luce che passa attraverso l'onda radio, noi possiamo catturarla e lo facciamo con radio e telescopi. Ora, a quello arriveremo tra poco. Prima vi faccio vedere direttamente un filmato di come siamo arrivati a osservare da lì. Quindi questa è la zona in cui stiamo andando a visitare il centro di questa lontana galassia e si chiama M87, la galassia, e ha circa 53 milioni di anni luce da noi ed è al centro di quello che è il gigantesco ammasso di galassie chiamato della Vergine, di cui facciamo parte anche noi. Quindi è un po' la galassia più grossa del gruppo di galassie a cui appartiene grosso modo anche la Via Lattea, quindi il super ammasso della Vergine è un po' la nostra casa. E quello che vedete qui al centro è l'osservazione del prima del getto, tutta la nube intorno che circonda il buco nero e infine il buco nero stesso. Per darvi un'idea di quanto è difficile osservarlo, nel migliore dei casi possibili è come riuscire a osservare qualcosa delle dimensioni di un'arancia sulla superficie della luna, dalla Terra. Per cui è incredibilmente impressionante che siamo riusciti davvero a osservare una cosa del genere. Da questo punto di vista è di gran lunga uno dei nostri achievement migliori nella storia della scienza. E ci siamo riusciti con diversi trucchi. Principalmente l'abbiamo fatto creando non un singolo telescopio gigantesco quanto la Terra, quanto sarebbe servito, ma creando una rete di telescopi sparsi per tutto quanto il pianeta che lavorano insieme e riescono a scattare questa foto così più definita. Quindi è un po' un trucco con... è come avere in realtà pezzi di specchio. Cioè, immaginatevi se qualcuno vi dicesse, facciamo un telescopio grande come l'intero pianeta Terra. Qualcuno sulla superficie della Terra potrebbe avere da ridire, riguardo alla vostra opinione, che dovrebbe vivere la sua vita sotto un gigantesco telescopio. Io no? Io sarei felicissimo di trasformare la Terra in telescopio. Vabbè, forse non felicissimo, però insomma, di sicuro avrebbero foto dettagliate. Però abbiamo un altro modo per farlo. Allora, mettendo quindi tutti d'accordo, avendo singoli pezzi dello specchio, se la Terra gira possiamo far finta che questi specchi sono pezzi del più grande telescopio che si spostano da una parte all'altra. Quindi con il fatto che la Terra gira, insieme al fatto che quello che ci interessa per la risoluzione della foto e quanto sono lontani i due punti più estremi, possiamo un po' barare. Questi sono i telescopi che sono stati coinvolti in quello che è stato chiamato Event Horizon Telescope, cioè telescopio per scattare un'immagine all'orizzonte degli eventi, alla zona più vicina intorno al buco nero. E sono vari telescopi, tutti in onda radio, che però si trovano da tutte le parti in giro per il nostro pianeta. Quindi ognuno ha scattato la foto per conto suo. Dopodiché abbiamo messo insieme i dati e abbiamo osservato qualcosa che è stato il frutto di pezzi di osservazione diverse. E come l'abbiamo fatto? Beh, l'abbiamo fatto per ore e ore di osservazione. Questa è una simulazione di come hanno lavorato insieme i telescopi, vedete, mettendoli insieme, triangolando, è come avere sempre pezzi di telescopio, anche quando la Terra gira, quindi anche se la Terra si sposta, comunque è un telescopio gigantesco. E sull'altra parte, sulla parte sinistra vostra, dovreste vedere anche come cambia la risoluzione. Quindi, da questo punto di vista, la risoluzione di quello che stiamo osservando dipende soltanto dalla luce e quello che non si può modificare, ma dipende principalmente da quanto lontani sono i due punti del telescopio. La linea di base, quindi la baseline, per questo si chiama baseline interferometry. E' praticamente come mettere insieme pezzi di telescopi. E siamo riusciti a farlo dopo anni di lavoro, sia per mettere d'accordo i telescopi e osservatori e riuscire ad avere tutti quanti lo stesso tipo di apparecchi e di lunghezze d'onda a cui osserviamo. E alcuni sono stati molto estremi da modificare, perché comunque abbiamo dovuto modificare decine di antenne, eccetera. La foto che è risultata è stata una delle più grandi vittorie, dicevo, della storia della scienza. Ora, quello che vediamo qui in realtà non è il buco nero in sé. Quello che vediamo qui al centro è l'ombra del buco nero. Che è un concetto un po' più difficile e complicato da capire, ma in pratica quello che vediamo è il buco nero più una zona d'ombra intorno che è la parte che ha assorbito le onde radio che passavano vicino. Ora ve lo mostro un po' più da vicino. Se noi fossimo lì nelle vicinanze, questo è quello che potremmo vedere. Quando osserviamo un buco nero da vicino, se lo riusciamo a vedere, ovviamente se sta mangiando attivamente qualcosa per cui è illuminato da un disco, lo vediamo più o meno così. Quindi quello che vedete lì è il disco di materia che sta mangiando, il disco di accrescimento o la fotosfera se è un pochino più vicina. E come vedete, man mano che giriamo intorno al buco nero, si vede il disco dappertutto, perché la luce del disco, anche dietro l'oggetto, viene piegata dalla gravità in avanti, per cui lo vediamo deformato in questo modo. Non è come Saturno in cui gli anelli vengono in qualche modo nascosti dietro il pianeta. Pianeta, qui si vede tutto intorno. E ovviamente la luce non ha massa. Questa è una delle cose più importanti da ricordare sempre in astronomia. La luce è l'unica che va alla velocità della luce. Quando dico la luce qui intendo fotoni, sono gli unici che vanno alla velocità della luce perché non hanno alcuna massa. E sarebbe facile chiedersi, ok, ma quindi perché in queste rappresentazioni vediamo i fotoni piegati dalla gravità, attratti quindi dal buco nero, se non hanno massa? Come fanno ad essere attratti dalla gravità? Beh, in realtà il problema è che noi pensiamo di solito, anche per come ci viene insegnata la gravità a scuola, alla gravità come una forza in senso newtoniano. Ed è giusto per le cose che sperimentiamo di giorno in giorno, ma per quanto riguarda la gravità, per oggetti estremi come i buchi neri, dobbiamo pensarla in modo relativistico, cioè come ci ha insegnato Einstein. Non tanto come una forza, ma come una deformazione dello spazio e tempo. Per cui se... Aspetta, userò direttamente la mia maglietta. Se vedete un pochino qui, è il classico esempio del tello piegato, no? Quindi in questo caso la deformazione dello spazio fa sì che la traiettoria più veloce che la luce può seguire da un punto A a un punto B è piegata, quindi la luce va comunque dritta, non è che la tira a niente, è semplicemente che lo spazio in cui si muove è tutto deformato. È per questo che vediamo questo strano effetto in questo modo. Quindi quello che vediamo nelle vicinanze del buco nero è prima di tutto la luce del disco tutta piegata intorno, l'ombra del disco all'interno, quello che vedete qui, e quello che vedete chiamato photon ring. È molto importante perché è la zona più vicina dove i fotoni finiscono quasi in un'orbita prima di essere mangiati dal buco nero e quelli che sono più all'interno non ce la fanno. Quindi gli ultimi fotoni che rimangono sono intorno a questo disco. Ora, ritorneremo su questo disco perché anche per la scoperta di oggi è super importante e ci permetterà in futuro di fare probabilmente alcune delle nostre più importanti scoperte riguardo ai buchi neri, l'universo e, beh, tutto quanto. Sono molto entusiasta riguardo a questo, è uno dei miei argomenti preferiti in assoluto questo dei buchi neri. Ora, se foste lì vicino morireste. Ma prima di morire, immaginando uno scenario, forse non dovrei dire morireste con così tanto entusiasmo, ma ero preso da prima, ma è il venerdì della Pasqua, quindi sono in tema. So che non è il tipo di morte che si racconta, ma ognuno parla del suo campo. Quindi nel mio campo, questo sarebbe sicuramente una delle morti più spettacolari perché cadendo verso il buco nero, prima di tutto chi vi guarda vi vedrebbe fermati a un certo punto con gli ultimi fotoni che partono da voi, quelli che sono su il photon ring, quelle che vedete come, beh, non è un anello ma sarebbe una sfera intorno al buco nero e quindi quando voi attraversate quella zona, quelli sono gli ultimi, ultimi, ultimi fotoni che possono ancora essere visti dall'esterno e quindi chi vi guarda vi vede intrappolati lì e dopodiché i vostri fotoni vengono spalmati su tutto quanto all'orizzonte dei eventi intorno al buco nero e poi vengono stirati così tanto fino a diventare sempre più rossi, fino a passare da onde visibili a onde radio eccetera, fino a diventare invisibili e poi dopo... Per quanto riguarda... in realtà qui c'è un'intero polemica grande così con libri su libri su che cosa succede all'informazione riguardo ai buchi neri ma questo sarà in un altro video. Riguardo a quello che succede nelle vicinanze che ci interessa qui particolarmente qui in questa animazione vedete i fotoni che passano vicino al buco nero, lì vedete lo spazio deformato dalla presenza del buco nero quindi come vi dicevo i fotoni non hanno una massa quindi sono deviati direttamente dal buco nero e quando passano troppo vicino vengono assorbiti e non arrivano all'osservatore quindi immaginando una fonte che arriva da dietro ci sarà una zona intorno al buco nero dove i fotoni potrebbero arrivare fino a noi perché il buco nero è più piccolo ma non ce la fanno ad arrivare semplicemente perché vengono mangiati in quel momento. Quindi di nuovo nell'animazione vedete quando vengono mangiati all'ultimo come si fermano, come il disco è più grande, l'ombra è più grande del buco nero stesso. Questo è quello che gli astronomi intendono per ombra del buco nero ed è super importante appunto perché quando vediamo le foto eccetera del buco nero dobbiamo ricordarci che è quello che stiamo osservando. I singoli fotoni che vedete che arrivano sono quelli che noi possiamo osservare e sono quelli del photon ring, quella luce che vedete intorno. Vi rifaccio vedere quindi di nuovo dopo aver visto questa animazione questa foto qui, questa è la storica foto che ormai tutti hanno visto eccetera. Per cui la prossima volta quando siete, che ne so, a una festa e trovate un ragazzo o una ragazza su cui volete fare colpo non diteli, ehi, ma ti sei fatta male? Quando sei caduto oltre l'orizzonte dei venti, diteli qualcosa di più su il fatto che, che ne so, il tuo viso è così brillante che sembra che l'effetto Doppler della parte bassa dei tuoi zigomi sia trascinato dalla gravità. Non so quanto funzionerebbe però a me farebbe colpo. Quindi questo che vedete all'interno è l'orizzonte dei venti, l'ombra del buco nero. Ma se guardate qui, vedete che c'è una zona dove c'è scritto Doppler Beaming. Beh, quella la vediamo anche qui. È la parte di luce che viene verso di noi. Per quello dicevo i zigomi è la luce che arriva accelerata. Quella parte sotto è la parte del disco che si gira verso di noi. E dato che accelera verso la nostra direzione, noi vediamo la luce come se andasse più veloce. E' super complicato da raccontare. E' semplicemente un'illusione ottica che in alcuni casi può farci sembrare che la luce vada anche più veloce della velocità della luce, semplicemente perché arriva nella nostra direzione, eccetera. E lo vedremo meglio anche per quanto riguarda spesso i dischi. Ora, tornando però a noi, vi faccio vedere uno... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi telescopi qui non è rimasta a fare niente nel frattempo, anzi si è lanciata in mille altre attività. Nel 2017, mentre ha osservato questo buco nero di M87, in realtà aveva fatto anche altre osservazioni. Dopo aver prima di tutto finito la foto, il buco nero, eccetera, che tutti conosciamo, si sono messi a lavoro su altri dati che avevano ottenuto. In particolare avevano osservato questo puntino di luce qui, che vedete, chiamato 3C279. Quel puntino, tra l'altro questa immagine arriva da un telescopio in raggi gamma, che sono la parte di luce più estrema in assoluto di tutto l'universo, è costruito in Italia, che si chiama Agile. È una delle missioni italiane di cui possiamo andare più fieri in assoluto. È una piccola grande missione che osserva il cielo in raggi gamma e mappa come aumenta la luminosità di oggetti molto molto brillanti. Ne vedete diversi puntini qui, in particolare quello lì è un quasar distante circa 5 miliardi di anni luce da noi. 5 miliardi di anni luce sono un bel po', sono molto molto più, sono 100 volte circa più distanti dai 55 milioni di M87. 5 miliardi di anni luce sono più di quella che è l'età dell'universo, per cui la luce che ci arriva da questo puntino qui, che noi vediamo ora, è partita quando il Sistema Solare non è nato. Ho detto l'universo prima o il Sistema Solare? Comunque intendevo l'età del Sistema Solare, non l'universo, ho sbagliato. E appunto, quindi ci arriva luce da questo quasar. Ma che cosa sono i quasar? Avevo fatto un'intera puntata dedicata a questo, ma per super semplificare molto velocemente, i quasar sono galassie che stanno divorando attivamente un sacco di materia e quando lo fanno intorno al centro della galassia si formano questi dischi giganteschi di materia super riscaldata e quello che noi vediamo, che si chiama quasar perché si chiama quasi stellar, è un puntino di luce perché la materia caduta nel buco nero diventa così tanto più luminosa mentre cade da arrivare fino a lui più luminosa persino di tutta la galassia. Quindi immaginate se ci fosse qualcuno che fa un barbecue in una città e la luce del suo barbecue, della braccia, fosse così tanto più intensa di tutto quello che lo circonda che dà lo spazio quando qualcuno guarda Milano, non vede la luce di Milano, ma vede principalmente al 90% solo la luce del barbecue. Tutto intorno, è solo luce di barbecue e poi se guardi in dettaglio a risoluzione più alta eccetera eccetera vedi che c'è il barbecue super super luminoso e poi c'è una città intorno, ma la luce di quel singolo barbecue è molto più intensa di tutto il resto della luce di tutta la città messa insieme. E qualcosa di queste proporzioni, quindi i buchi neri di cui parliamo, i quasar, sono così tanto più luminosi che appunto riescono a inondare completamente la luce e sono qualcosa del genere, se vissi da vicino sarebbe una struttura del genere, con getti lunghissimi e occupano intere porzioni centrali delle galassie. Ora, quello che ci interessava di questo singolo puntino era che era nella direzione giusta ed era possibile osservare da vicino il getto. Era già studiato da diverso tempo, si chiama 3C279, potete trovare altri articoli in passato su questo oggetto ed era preso di mira perché ha spesso dei flare, cioè dei aumenti di luminosità molto intensi poi diminuisce, poi aumenta la luminosità e poi diminuisce. Fa questo perché sta mangiando quantità diverse di materia intorno, per cui periodicamente passa una stella e la smangiano tutta. Ah, ho visto che qualcuno di voi mi diceva, ciao Saverio, Adrian legge la chat, please, non abbiamo capito nulla. Ah, aspetta, vi siete persi? Che è successo? La musica? Di cosa? Ah, stavo spiegando... No, 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 oddio, che è successo? Ma, da dove sentivate la musica? Oddio, spero di no. Ah, ok, 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 riprovo, riprovo a raccontarvelo. Spero, 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 spero non... La musica ha coperto... Ok, riproviamo. Quindi vi faccio vedere questo per raccontarvi del buco nero. Ora dovrebbe sentirsi meglio, immagino, spero di sì. Ok. Ok, ora funziona tutto? Tutto a posto? Ah, ok. Riproviamo. Vi raccontavo di questo in particolare, perché... Oh, dabbè, ora c'è tutta la collaborazione. Comunque, quello che ci interessava di Bucchi Neri, finora, vi dicevo, noi abbiamo osservato la galassia in sé, abbiamo visto da vicino il buco nero, ma non abbiamo visto bene la struttura del getto che viene da quel buco nero centrale. Quello che ci interessa è come nasce quel getto che vediamo lunghissimo, perché il disco che si forma, si forma creando appunto la materia che viene mangiata, si accelera, eccetera, eccetera. Però, quando viene accelerata moltissimo, i campi magnetici all'interno del buco nero accelerano e strappano via pezzi da lì, li lanciano a velocità superluminali. Qua, beh, abbastanza relativistici. Tipo, 90% della velocità della luce. Quindi, in sostanza, noi ci siamo riusciti nel tentativo di osservare il centro, il disco che vedete intorno al buco nero, ma non abbiamo visto, a risoluzione alta, il getto che si forma intorno. Ed è un peccato, perché la parte affascinante di quel getto è che, in base a come si forma, in base alla nostra conoscenza matematica e fisica di come funzionano i Bucchi Neri, cambia il modo in cui possiamo spiegare la gravità e la relatività. Quindi, in sostanza, se noi abbiamo un'idea X, abbiamo un'ipotesi X di come funziona la gravità e come dovrebbero essere all'interno i Bucchi Neri, la possiamo mettere alla prova guardando quali sono le previsioni di quella ipotesi. Quindi, immaginatevi uno scenario in cui vari scienziati arrivano e propongono diverse teorie. Ogni teoria prevede che il disco e il getto in particolare siano fatti in modo diverso. Quindi, se la mia teoria è giusta, questo oggetto dovrebbe essere attorcigliato. Se la mia teoria è giusta, invece, il disco dovrebbe essere le show. Se la mia teoria è giusta, invece, il getto dovrebbe essere piegato in questo modo. Ognuno fa la sua previsione. Poi, dopo, andiamo a osservare questi oggetti e capiamo quale modello e quello giusto. Per questo è così importante ottenere date ad alta risoluzione e riuscire ad avere abbastanza verifiche di come cambiano nel tempo. Perché non è solo questione di fare una singola osservazione e vedere una volta la foto di un buco nero. Si tratta di vedere come cambia nel tempo e che differenza c'è tra un periodo quando mangia o un periodo quando non mangia. Questo sarà il futuro. Ovviamente serviranno un sacco di anni, tante osservazioni. Però, è la direzione con cui stiamo andando. E, come dicevo, la cosa per cui rosicavano tanto i scienziati è che eravamo riusciti a osservare il buco nero, ma non il getto. Perché era molto difficile farlo in questa singola galassia. Non era così tanto luminoso il getto come speravamo. Però, c'è speranza perché vi dicevo che in questa altra galassia qui, distante 5 miliardi di anni luce da noi, c'è un quasar. Qui, ha vado più veloce perché probabilmente avrete già sentito raccontare di questo, il quasar sono galassie gigantesche, come dicevo, il barbecue, quindi la luce proveniente da un singolo punto di luce molto più intensa di tutta la galassia. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo osservato direttamente questo oggetto da vicino. Qui vedete l'osservazione sempre con l'Event Horizon Telescope della zona centrale di questo quasar, della galassia. La parte lunga che si vede all'esterno è materia che è stata lanciata a più riprese dal centro del buco nero e piano piano, mentre ci avviciniamo, possiamo vedere delle strutture, due divise, che sono il getto e il buco nero stesso. E questa è una risoluzione assurda, cioè, non mi mancano aggettive, devo comprarmi un intero libro nuovo solo su aggettivi per descrivere quanto questa singola foto è fighissima. Ma c'è di meglio, perché invece di osservarla solo la singola foto, siamo riusciti a vedere come cambia nel tempo. Questa vedete come osservazione il 5 aprile, il 6 aprile, poi il 10 è l'11 e vedete che è leggermente cambiata. Intanto, quando guardiamo quanto si è piegata, possiamo calcolare quanto si è spostato il getto. Perché il getto sta andando lontano dal buco nero che è nella parte alta e si è spostato in quel periodo a una velocità di 0,995 volte parte della velocità della luce. Quasi alla velocità della luce, cioè 0,95 la velocità della luce è incredibile perché quelli non sono fotoni, quelli sono particelle. E per spingerli quasi alla velocità della luce ti serve una quantità di energia che è molto più alta di quella che il sole rilascerà in tutta la sua vita. Quindi immaginatevi di prendere tutta l'energia che il sole rilascerà tutta la sua esistenza e lanciare particelle con quella energia lì. Ed è quello che si forma in questo getto. Tra l'altro, altra cosa interessante, nella parte alta si vede, beh, c'è il disco, tutto intorno c'è il buco nero, però la parte in basso del getto ha delle strutture che non immaginavamo che non abbiamo mai visto. Vedete sul lato c'è una specie di spigolo è come un altro getto che va perpendicolare al getto principale. Quella struttura lì non l'abbiamo mai vista da nessun'altra parte. Questa è la prima volta che abbiamo osservato qualcosa del genere. E questa è la singola foto vista un po' più in dettaglio. Insomma, quello che al momento stiamo cercando di capire è in che modo varie teorie possono spiegare quello che abbiamo visto. Quindi, vediamo. Passo un po' più da vicino. Eccolo qua. Queste sono a varie lunghezze d'onda. Quindi, vedete come le osservazioni migliori che avevamo potevano mostrarci fino ad ora soltanto una zona luminosa intorno al getto ma non avevamo alcun tipo di risoluzione adatta a vedere singoli dettagli e getti intorno ai buchi neri. Quindi, questo ci apre un'intera porta nuova di studi dei buchi neri perché l'ipotesi è che quella struttura perpendicolare che avete visto sia la base del disco stesso del buco nero e che guardando a come sono orientati e possiamo in futuro osservare la rotazione del disco e capire magari come quello è correllato alla massa e alla rotazione del buco nero stesso. In base a come la gravità influisce su quello che c'è intorno possiamo cambiare e migliorare i nostri modelli su come sono fatti questi oggetti. Quando vi raccontavo delle onde gravitazionali vi dicevo che le onde gravitazionali in generale sono uno dei portali futuri per lo studio dei buchi neri e queste due cose saranno congiunte in futuro immaginate quando riusciremo a fare le foto e riprese di buchi neri che entrano in collisione qui vedete una simulazione di onde gravitazionali e di come i due buchi neri mentre si avvicinano piegano lo spazio e il tempo intorno quindi le linee che vedete sono l'intensità del campo gravitazionale quanto viene piegato e qui vedete i buchi neri che sono in avvicinamento sempre di più sotto in quel grafico sotto che vedete c'è la frequenza della loro rotazione quanto si stanno avvicinando e finiranno per collidere però quello che ci interessa è quando arrivano vicinissimi come interagisce la piega dello spazio-tempo di ognuno di loro in che modo si deforma perché vedete qui dove c'è Frozen beh quei picchi dipendono da come sono fatti i buchi neri e come la loro struttura e varie teorie prevedono tipi diversi di interazione e quella è la cosa affascinante potremmo scoprire qualcosa di come sono all'interno i buchi neri anche se non potremmo mai andarci dentro non potremmo mai uscire semplicemente perché dal punto di vista matematico possiamo vedere quali sono le conseguenze del loro comportamento sulla parte esterna sul mondo esterno ora vi dicevo che dovete ricordarvi del del photon ring il disco intorno perché? perché il disco intorno è buco nero anzi prima vi faccio vedere di nuovo il buco nero e il disco vediamo dov'era eccolo qua quindi perché è arrivato dopo questa è un'animazione del buco nero e dei fotoni che passano nelle vicinanze e vi dicevo che non tutti i fotoni che vediamo passano esattamente vicino sono quindi accanto al buco nero alcuni vengono assorbiti e quindi il buco nero crea un'ombra intorno dove i fotoni non riescono ad arrivare fino a noi che osserviamo da lontano e quest'ultima ombra di fotoni che prima di sparire del tutto finiscono in un disco chiamato in un anello dipende da come lo volete guardare photon ring questi sono gli ultimi fotoni che spariscono ed eravamo convinti che fosse un'unica zona in realtà abbiamo scoperto che probabilmente non è un disco singolo non è una sola zona ma ci sono dei sottoanelli quindi invece di avere un singolo anello di luce ci sono vari sottoanelli sempre più complessi questo è da un recente paper che trovate qui in descrizione se andate a vederlo dove ho parlato della rotazione dei buchi neri e potete andare a vedere tutto il paper con tutta la spiegazione delle simulazioni e si parla di come potrebbe cambiare questa zona di vari dischi e se ci sono non uno ma vari sottoanelli la cosa interessante è che ognuno di questi anelli cambierà in base a come cambia la massa del buco nero e come cambia la rotazione quindi più sei vicino al buco nero più i fotoni sono vicini ai buchi neri più saranno diversi questi anelli questi anelli concentrici se noi riusciamo a mappare quando avviene la transizione da un anello all'altro possiamo avere una misura molto molto più precisa di quanto abbiamo mai fatto della massa del buco nero e anche di come ruota e qui il paper è pieno di altre osservazioni anche di come questo anello potrebbe essere schiacciato da una parte quello potrebbe darci un indizio riguardo alla rotazione perché in generale comunque le traiettorie dei fotoni dipendono dal buco nero e noi ne abbiamo parlato finora di buchi neri classici che stanno fermi ma quelli che si chiamano buchi neri care in rotazione sono molte volte più complessi perché poi quando ruoti tutto questo buco nero cambia un sacco di roba però per quello che ci serve quindi semplificando se il buco nero è fatto di vari la zona intorno è fatta di vari anelli concentrici noi osservando a varie risoluzioni possiamo vedere per ogni zona un anello diverso e questa è una delle tecniche future che sarà implementata in particolare come facciamo a fare una cosa del genere beh la terra è troppo piccola per fare qualcosa così quindi ci serve qualcosa di più ambizioso e quello che i scienziati attualmente hanno in mente è di andare a lanciare dei telescopi nello spazio e quindi aumentare la risoluzione del nostro telescopio perché non hai più soltanto il limite della terra ma anche il limite cioè puoi avere un telescopio a metà tra noi e la luna e un altro sulla luna e a quel punto puoi avere una risoluzione grande come la terra una risoluzione dovuta alla distanza tra la terra e la satellitica a metà strada che non so magari geostazionario 35.000 km quindi hai un telescopio già molto più grande e poi ne hai un altro sulla luna a quasi 400.000 km e dato che ogni telescopio ha una risoluzione molto diversa vedrà parti diverse di questi anelli all'interno quindi per quello molto più grande magari vedrà strutture molto più fini come questi in fondo mentre quelli sulla terra vedranno strutture più grosse che sono all'inizio e possiamo vedere dove si passa a quale punto si passa da un anello all'altro e in base a quando avviene e come avviene questa transizione riusciremo a capire qualcosa riguardo alla massa dei buchi neri io lo so che queste cose sono molto molto complicate però e tra l'altro non si parla di uno dei ambienti di fisica estrofisica più complicate quindi ci vuole un po' magari per abituarsi a tutti questi termini magari vi chiarisco poi qualcosa di più nelle domande in questo caso l'ultima cosa che volevo menzionare è che stiamo migliorando anche i modelli e il modo in cui stiamo osservando le cose quindi in futuro sono già in fase di pianificazione risoluzioni migliori anche per i telescopi sulla terra e potremmo passare da quello sopra che è il modello 230 gigahertz che vedete in alto e poi come l'abbiamo osservato a quello in basso quindi la risoluzione anche aumenterà moltissimo e riuscire beh più che la risoluzione no scusate sbaglato io non la risoluzione intendo i dettagli che riusciremo a tirare fuori aumenteranno tantissimo questo sarà possibile anche aggiungendo altri telescopi alla collaborazione per cui in futuro potremo vedere più dettagli alla stessa risoluzione e avere magari più indizi riguardo a come ruotano i buchi neri e avremo anche video dell'orizzonte degli eventi di buchi neri ultima cosa che vi vorrei mostrare vediamo se riesco a farlo partire però dal momento giusto ok questo è un più lungo video riguardo a quanto sono grossi gli oggetti nella galassia ma volevo andare un pochino più avanti più veloce ma probabilmente non ci riuscirò comunque insomma intanto mentre aspettiamo che vada un pochino più avanti vi racconto che cos'è che si vede in questo video si vedono un po' di cose diverse riguardo alla risoluzione scusate alla dimensione dei buchi neri quando immaginiamo i buchi neri tendenzialmente li pensiamo come giganteschi ma la maggior parte della massa del buco nero è a una densità così alta che sono piccoli molto piccoli se trasformassimo la terra in un buco nero sarebbe delle dimensioni di un pollice molto 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 piccola se riusciamo a schiacciare insieme questo è quello che viene chiamato raggio di svarsha il sole per farlo diventare un buco nero sarebbe delle dimensioni di pochi chilometri massimo 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 come le stelle a neutroni per esempio sarebbero grandi tipo una ventina di chilometri qui lo vedete paragonato a Manhattan quindi l'intera massa del sole è schiacciata fino a diventare delle dimensioni di una piccola città se appunto schiacciate la terra è delle dimensioni di una no dai non si capisce dai non può esserci l'audio di nuovo come fa a sentirsi doppia? ora mi sentite? va meglio? audio robotico addirittura comunque quello che intendevo molto velocemente è appunto la dimensione di questi oggetti che vedete sono paragonati a masse di sole quante volte il sole è grande rispetto a cioè quante volte il buco nero è massiccio rispetto alla massa del sole cerco di risolvere il problema della voce ma non vi assicuro niente non so come tanto il video si dovrebbe capire lo stesso spero vi sentite meglio? funziona meglio ora? si sente meglio? cambia qualcosa? va meglio? comunque quello che vedete ora nel video è la quantità di soli che servono per fare il buco nero più grosso beh uno dei buchi neri più grossi che abbiamo mai osservato di 20 miliardi di volte la massa del sole questa è la quantità di materia che ci serve per fare un singolo buco nero ok però tornando allora provo si sente? no provo ok ok perfetto perfetto quindi per finire ritornando qui un attimo andando avanti quello che ci interessa capire quello che sarà il futuro dell'osservazione dei buchi neri e come cambia non solo il buco nero in sé ma anche la materia intorno per cui la morale di tutta questa live è che siamo passati da questa osservazione qui un anno fa del primo buco nero a riuscire ad avere ora anche per la prima volta un po' di dati riguardo al getto proveniente da un quasar 5 miliardi di anni luce da noi un quasar tra l'altro della massa di un miliardo di volte la massa del sole quindi molto massiccio molto più massiccio di degli oggetti con cui siamo familiari noi un miliardo di volte il sole compattato nelle dimensioni di poche volte il sistema solare al centro di una galassia e sta mangiando così tanta massa in maniera così violenta che la luce che rilascia intorno si vede da 5 miliardi di anni luce più intensa di tutta la luce della sua galassia che per me è quanto di meglio possiamo sperare di vedere con le nostre attuali tecnologie ora passo alle vostre domande ma prima mi metto al grande schermo così riesco a mostrarvi un po' di cose eccoci ciao bentrovati benvenuti prima di tutto però come sempre ora siamo arrivati nella parte in cui devo mostrarvi l'ospite a sorpresa e come sempre ospito un artista diverso e in questo caso è una delle mie artiste preferite Alice Bad Taste che mi ha fatto un alieno personalizzato è uno dei miei alieni preferiti in assoluto se non conoscete non avete una cultura di film di fantascienza adeguati lui è un venusiano vi do solo questo indizio cercate film di fantascienza con mostri venusiani qualcuno di voi probabilmente lo riconosce chi lo riconosce scriva qui sotto che lo riconosce comunque lei si chiama Alice Bad Taste andate a seguirla su Instagram perché fa delle lavori meravigliosi è davvero non solo molto brava ma anche uno degli artisti più originali e più strani strani in senso buono che fa cose che solitamente non vediamo abbastanza dovremmo vedere molto molto di più in Italia poi ho un debole fortissimo per i mostri della fantascienza e cosa c'è di meglio quindi andate a fare una sorpresa l'alice che tra l'altro dovrebbe avere tipo un milione di volte più valor di quanti ne ha per quanto è brava e salutatela da parte mia e da parte di quest'alieno che penso che mi rimarrà qui per sempre nel cuore salutate Alice andate a seguirla su Instagram detto questo passiamo alle vostre domande e vediamo quali sono le vostre curiosità in tema di Bucchi Neri e Majin Bu non è Majin Bu è molto meglio quindi se riuscite a scoprire chi è vi vi saluto in Dai Dai è facile Francesco Mazzoni chiede cosa ne pensi dei word bulb e un altro argomento ancora praticamente i worm si riferiscono a un'ipotesi di un ponte che può essere creato tra due buchi neri in cui puoi piegare così tanto lo spazio e tempo da avere come una specie di tunnel per passare da una parte all'altra sappiamo che matematicamente è plausibile però non abbiamo alcuna prova ancora della loro esistenza vera e propria nell'universo anche perché sarebbe molto molto difficile che un buco nero possa cioè piegare così tanto lo spazio da romperlo in questo modo e sostenere poi questa rottura questo tunnel per cui non è soltanto questione di creare un tunnel ma anche sostenerlo poi nel tempo perché di solito all'universo non piacciono i buchi li chiuderebbe subito Fabio manda tecnicamente poi cosa accade dentro sfugge alla nostra comprensione viene chiamato singolarità ci sono diverse ipotesi riguardo a come funziona l'interno il tempo rallenta così tanto che potreste avere anche più di una singola singolarità però qualsiasi cosa noi pensiamo riguardo ai buchi neri al momento per l'interno per il per la comportamento interno non è facilmente provabile per cui nessuno lo sa it conquered the world esattamente Massimiliano Testa ha ragione e ha indovinato chi è il protagonista del disegno di Alice Alice Bad Taste mi raccomando tra l'altro andate a dirglielo poi dopo su Instagram perché fate una sorpresa non è il mostro delle parudi il conquistatore del mondo ahah bravo sì Mirko Lomuscio ci vorrebbe l'OST di Interstellar sì il buco nero di Interstellar non è male è fatto abbastanza bene ho diversi problemi io con Interstellar dal punto di vista scientifico ho fatto una recensione che dura più del film per cui se volete andatela a vedere Marco Antonio Lobuono chiede se due se due buchi neri collidano mangiano l'altro oppure si fondono si fondono non si mangiano a vicenda diventano un solo oggetto della massa complessiva di entrambi e perdono tra l'altro diverse volte la massa del sole in solo energia come perdono energia sotto forma di onde gravitazionali quindi quelle che arrivano a noi sono onde che portano via energia di massa quindi dal buco nero quindi i buchi neri che collidano magari immaginatevi uno di 20 masse solari che collide con uno di 30 masse solari e non formerà uno di 50 masse solari come invece ci sembrerebbe ovvio no? no in realtà formerà un buco nero di magari 48 masse solari due masse solari dove si sono perse? beh due intere masse solari sono state convertite da massa in energia energia che poi dopo viene lanciata sotto forma di onde gravitazionali che piegono lo spazio-tempo e arrivano fino a noi e si muovono alla velocità della luce oh grazie di cuore alle donazioni di Flavio di Stella e a Nuke Coba grazie Flavio grazie Nuke e Nuke chiede i radiotelescopi sulla luna e nello spazio devono essere tanto tanti o grossi? qual è la proporzione migliore? bastano antenne che stanno nel fairing del Falcon 9 di VB TVB anch'io e in realtà devono essere l'idea è di farli abbastanza grandi come antenne ma più che piegarle all'interno di un fairing per quanto riguarda la luna l'idea è di andare lì e costruirne una all'interno di un cratere se trovi un singolo cratere posizionato in modo giusto puoi sfruttare le pareti del cratere per creare un piatto di un'antenna direttamente lì e puoi farla di anche un chilometro c'è un progetto proposto alla NASA di recente di creare un'antenna così dentro un cratere sulla luna di un chilometro da parte a parte Emilio De Vivo chiede cosa ne pensi delle radiazioni di Hawking ho fatto anche dei video riguardo a quello è un altro ambiente ancora dello studio dei Bucchi Neri e riguardano radiazione che sfugge dall'orizzonte degli eventi non da dentro il buco nero ovviamente ma dalla zona vicinissima al confine del buco nero dove particelle virtuali che nascono insieme e si estinguono insieme capitano di continuo anche intorno a voi ora intorno a voi ci sono particelle che dal vuoto nascono si anichiliscono la vicenda e tornano energia l'universo lo fa di continuo solo che queste due particelle come unica regola devono anichilirsi tra di loro non possono sparire una e l'altra rimanere devono per forza di cose ritornare insieme energia quindi quando succede sul bordo di un buco nero nascono in due una finisce dentro e una no il buco nero stesso perde parte dell'energia per compensare a questo perché se no l'universo crasha quindi è importante da questo punto di vista calcolare quante volte può capitare vicino alla dimensione del buco nero e quindi futuri studi sulle dimensioni esatte dei buchi neri potrebbero permetterci anche di calcolare meglio come la radiazione di Hawking può cambiare il comportamento del buco nero al momento non abbiamo mai trovato delle prove dirette della radiazione di Hawking ma sappiamo dal punto di vista teorico che dovrebbe succedere per cui è una delle previsioni più importanti fatte da Hawking e ci aiuterebbe anche a spiegare che succede forse all'informazione forse all'interno della radiazione di Hawking tutto quello che c'è intorno potrebbe rimanere una traccia di quello che è caduto dentro l'orizzonte dei eventi Luca Minotti cosa c'era prima del Big Bang nessuno lo sa non abbiamo idea non sappiamo neanche se c'era il tempo prima del Big Bang sempre questo non sappiamo neanche se c'è il tempo se esiste se cercate tempo qui sull'info possibilità riguardo alla presenza del tempo all'universo se il tempo scorreva già se non scorreva se c'era il tempo prima del Big Bang Manuel Perretti chiede se i buchi neri perdono masse solari solamente con le onde gravitazionali a quel punto un buco nero dovrebbe consumarsi anche così no perché in realtà la somma dei due buchi neri quando si fondono rimane più alta rispetto alle masse iniziali per cui perdono una parte in onde gravitazionali ma non così tanto da sparire i buchi neri muoiono ma per radiazione di Hawking solo che ci metteranno molto 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 più dell'età dell'intero universo l'universo sarà già morto da un pezzo prima che i buchi neri scompaiono i buchi bianchi sono mai stati osservati chiede Fabrizio no non sono mai stati purtroppo osservati beh per chi non sa cosa sono sono l'opposto dei buchi neri sono buchi da cui la materia può uscire ma non può mai 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 entrare grazie di cuore a Ruggero Tardivo grazie Ruggero per la donazione e grazie a tutti voi in realtà per le donazioni perché mantengono questo canale grazie a Sidos Bistro Bist Bist scusami no ho sbagliato non leggiamo in notanza grazie e Albo chiede ciao Adrian a quanto hai stimato circa la forza stimata circa la forza G di un buchi nero super massiccio dipende dalla dalla sua massa quindi questo varia in base alla massa di solito i buchi neri super massicci si contano da milioni di masse solare in su quindi sì milioni di volte la gravità che sentiresti sulla sole che è circa 25 volte quella sulla superficie della terra Vasili chiede quando farai una live senza problemi di audio la prossima volta è quello che mi dico sempre è molto più complicato di quanto sembra riuscire a fare una live con così tanti diversi contenuti da video a filmati a grafici e cose con così tante fonti diverse da youtube dall'interno dal computer eccetera con tutti gli strumenti con due microfoni con le cuffie con ragazzi ci provo non sono uno studio di registrazione lo so a casa sto cercando di fare del mio meglio con quello che ho mi dispiace sempre un sacco mi sento sempre un sacco in colpa quando vengono fuori i problemi mi dispiace Gianni Riganello chiede Gianni Riganello grazie di cuore per la donazione scusa aggiungete domande se volete quando fate le donazioni mi sento già in colpa così Potti grazie per quello che fai grazie a voi che mantenete questo canale vivo perché vi assicuro che specialmente ora questo mese per esempio le donazioni sono arrivate mi hanno aiutato ad arrivare a circa metà delle spese per mantenere il canale e tutto quanto quindi un po' di speranza in più per riuscire a mantenerlo vivo vediamo come va se riusciamo a sostenere il canale vivo continuerò anche per tutta l'estate io incrocio le dita speriamo di sì Giuseppe Panasci chiede può essere che siamo frutto di un buco bianco il cosiddetto Big Bang non abbiamo idea perché al momento non abbiamo dei modelli chiari che spiegano che cos'è stato il Big Bang e cosa c'era come erano le situazioni dell'universo ci sono delle cose in comune riguardo all'orizzonte scusate la singolarità al centro dei buchi neri è singolarità intesa come il Big Bang per cui ci sono dei paralleli però per adesso non abbiamo un'idea di come di come sia avvenuto il Big Bang abbastanza precisa dirti sì era l'opposto di un buco nero però sì allora la differenza del buco nero è che c'è un esterno c'è qualcosa che non può entrare dentro nel caso di un buco bianco per esempio mentre in questo caso l'universo è tutto quello che c'è non c'è un fuori che niente l'universo semplicemente continua da tutte le parti quando al Big Bang non c'era un punto dentro lo spazio come lo vedete nelle animazioni non c'era proprio lo spazio l'universo tutto quanto tutto quello che c'è tutto lo spazio tutti gli atomi ogni singolo atomo ogni singolo fotone di tutto quello che vedete nel cielo era nello stesso punto quindi gli atomi che sono dentro di voi quello di cui sono fatte l'energia degli atomi di cui siete fatti era nello stesso identico punto dell'energia di questo quasar che vediamo a 5 miliardi di anni di uccidere avete già tra virgolette toccato tutto quello che c'è nell'intero universo nel senso che i vostri atomi sono stati a contatto con in termini di energia ovviamente non erano ancora atomi con tutto quanto che c'è nell'universo grazie di cuore a marco testolina e alberto carissi che chiede a quante luce anni luce si trova a 5 miliardi di anni luce il quasar si trova a 5 miliardi di anni luce circa da noi e a un miliardo di volte la massa del sole grazie di cuore anche alberto sorato spero di non essere mi perso nessuno marzo online chiede un buco nero si può definire un imbuto o una ciambella nessuna delle due una sfera quando avete quando vi ho fatto vedere l'animazione si vedeva che potete girarci intorno per esempio quindi i buchi neri non sono dei oggetti bidimensionali non sono buchi e per la maggior parte delle volte non sono neanche del tutto neri perché sono illuminati tutto intorno come un albero di Natale quindi sì Alex chiede dice oggi leggendo il libro di Rovelli ho percepito che non è detto che se si entra in un buco nero si muoia lì il tempo è fermo e quindi allora il tempo non è fermo del tutto non si ferma mai del tutto completamente per cui in realtà è un po' più complicato perché voi morireste molto prima per un milione di ragioni diverse se attraversate l'orizzonte degli eventi venite piano piano spaghettificati sì magari per i vostri fotoni per i vostri scusa particelle sembrerà di essere fermi però d'altronde è difficile avere coscienza sotto forma di una singola un singolo spaghetto di particelle grazie di cuore ragazzi per tutto l'incoraggiamento fa veramente tanto io ci provo tutte le volte a fare il mio meglio Alex Chan chiede se esiste una galassia che lancia il getto da uno dei poli del proprio buco nero centrale in faccia ad una galassia vicina allora sai che non lo so così su due piedi ci sono galassie che hanno oggetti che però sono in fase di fusione quindi se vale quello sì ci sono galassie in cui hai entrambe le galassie in fase di collisione e stanno interagendo i buchi neri non mi ricordo di preciso se sono dirette verso di noi o no oh Elena Mascolo mi fa un riassunto delle donazioni che mi sono perso e sono quelle di Giulio Di Meglio Vapen Eleven Enrico Barichiello ciao a tutti Maurizio Scala Cubo 81 William Dellosa Saverio Cutolo e Ultra Alem e Teus grazie ragazzi grazie grazie Matteo Donofrio chiede non penso non capisco perché il buco nero viene sempre rappresentato su un piano bidimensionale in uno spazio aperto viene rappresentato in questo spazio bidimensionale così perché è più semplice capire i punti di riferimento per il nostro cervello per come di solito immaginiamo le cose perché le rappresentiamo su una superficie bidimensionale quindi quelle che vedi le righe intorno sono semplicemente per darti l'illusione su uno spazio bidimensionale di quello che succede cioè il fatto che hai un singolo punto in cui entri e questa è una rappresentazione 2D semplificata ma l'oggetto lo devi immaginare in 3D come una sfera quindi questo quello che succede qui si applica a ogni singolo punto di tutta la superficie del tuo oggetto e in realtà poi immaginatevelo così specialmente se provate a disegnare prendete un foglio di carta e immaginate che voi volete uscire fuori dal pezzo di carta quindi dentro la carta 7 nel buco nero e volete uscire fuori quello che succede dentro il buco nero è che la carta stessa è piegata così tanto su se stessa che è come è una sfera quindi voi provate a disegnare per uscire arrivare al bordo del foglio se la carta è aperta ce la fate ma se la carta è piegata in una sfera voi solo non potendo alzare la penna non dovete varare 7 2D continuando a tutte le parti vedrete che semplicemente continuate 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 ma non ci sarà mai un bordo non c'è nessun modo per uscire fuori non importa quanto adatte veloce e quello che succede è dentro il buco nero lo spazio stesso è piegato così tanto che anche andando al massimo della velocità possibile non potete uscire da lì è il fine dei giochi bellissima la maglietta tra l'altro si è fatta da Matteo De Longis è una delle magliette ufficiali del canale quindi se volete una maglietta ufficiale del canale di Link4Universe credo sia il link sotto comunque insomma ve lo faccio vedere periodicamente li metto anche su Instagram se mi seguete lì Jarvis chiede se il buco nero è perfettamente sferico o parliamo anche qui di Geody dipende dalla rotazione se il buco nero sta ruotando sarà leggermente schiacciato altrimenti è perfettamente sferico di solito quando vengono illustrate sono sferici sono semplici come dicevo quando ruotano poi dopo si complica tutto come sempre ecco Elena Masco l'ha messo ora qui nella chat il link se volete la maglietta dell'Infori Universe Gigi Latrotola chiede allora RandomFixes ha detto che non possiamo osservare un buco nero maturo perché tutto si ferma o rallenta al massimo ad un attimo prima della conclusione del processo se puoi spiegarmelo farò di meglio in realtà speravo di invitare RandomFysics per una live insieme quindi magari ne parliamo di buchi neri di tempo e di fisica insieme quindi non vi sciupo la sorpresa ne parleremo direttamente insieme anche perché non ho visto il video quindi non saprei come risponderti così Dennis Ballan chiede allora hanno dato i propri hanno dato i denomi propri ai buchi neri fotografati da IHD non ancora non ancora e sono d'accordo con te che dovrebbero avere i denomi propri per adesso il buco nero il primo osservato è semplicemente M87 l'unica cosa carina è che l'asterisco che vedete accanto ai buchi neri come per esempio Sagittarius A che è il buco nero centrale della Via Lattea sono dati dalla fisica quantistica dove l'asterisco denota una particella sotto in un stato di eccitazione e quando i fisici l'hanno trovato non avevano ancora chiaro con certezza che fosse un buco nero l'hanno solo chiamato Sagittarius A che è l'oggetto in sé asterisco perché è un oggetto particolarmente eccitante e speravano fosse appunto un buco nero ed è stato confermato poiché effettivamente è un buco nero però valeva soltanto per il buco nero qui e poi l'hanno applicato per una cosa molto simpatica secondo me l'hanno applicata anche a M87 e sì dovremmo applicarlo per tutti i bucchi neri tutti i bucchi neri dovrebbero avere un nome poi asterisco perché sono eccitanti oh grazie di cuore a Braghetta Channel un abbraccio a te e vediamo la domanda secondo te con l'avanzare degli anni e poi dei decenni l'uomo riuscirà a migliorare sempre di più la tecnologia per l'osservazione dell'universo oppure ci sarà un limite allo sviluppo tecnologico tvb tvb anch'io abbraccio a distanza come sempre bella domanda allora io sono un po' di parte perché il mio campo è proprio storia della scienza per cui ho un punto di vista molto più su epoche intere e in epoche succede di tutto può essere che l'umanità attraversi periodi di rallentamento e di accelerazione nella conoscenza quello che succede ora è senza precedenti non è mai capitato un periodo come quello che vediamo da circa 5-600 in qua quindi dopo la rivoluzione scientifica del 500 poi continuata nel 600 c'è stato un aumento rapido dell'innovazione e man mano che da varie parti del mondo siamo entrati in contatto con la globalizzazione questo aumento è diventato sempre più veloce in alcuni campi anche esponenziali basta guardare per esempio l'informatica e i computer e c'è sì la sensazione che gli umani continueranno su questa traccia che continueranno a sviluppare sempre di più senza un limite preciso anche il modo in cui le facciamo quindi il modo in cui noi ragioniamo riguardo alle tecnologie che abbiamo è dettato dalle tecnologie che abbiamo se tu avessi chiesto quale sarebbe stato il limite dello sviluppo tecnologico a qualcuno ai tempi dell'impero romano intanto sarebbe stato complicato perché loro non avevano l'idea di progresso e quindi già questo è una cosa molto tipica nostra di questo momento non pensavano che tra mille anni sarebbe stato diverso un antico romano ti avrebbe detto che nel 2000 si viveva esattamente come si viveva nell'epoca loro perché dovevano cambiare le cose le cose non cambiano le cose in regola in ordine sono già giuste così l'acquedotto è fantastico perché che potremmo mai migliorare oltre l'acquedotto giusto? che pazienza con gli antichi romani a me piacciono per un sacco di cose meravigliosi con le rotutine in pelle però per il resto preferisco il mondo ellenistico perché lì stava nascendo quello che poteva diventare una rivoluzione scientifica detto questo però se noi ora abbiamo un rapido progresso tecnologico è anche dovuto al periodo di pace una cosa che spesso ci diciamo che è sbagliata secondo me dal punto di vista storico è che le guerre favoriscono un rapido progresso tecnologico in realtà no non particolarmente il più grosso progresso tecnologico l'abbiamo fatto in questi ultimi decenni dopo la fine della seconda guerra mondiale dopo il rallentamento della guerra fredda per cui pace e collaborazione incentivano il progresso tecnologico molto molto più rapidamente rispetto a guerra in cui comunque il fuoco della ricerca scientifica viene ristretto molto velocemente in cui i fondi sono pochi riguardo all'innovazione e si spende solo per alcune cose chiave la ricerca di base di fisica di chimica che è quella che ci dà l'innovazione più straordinaria e non aspettate richiede tempo pazienza e collaborazione e più umani siamo più università siamo più popoli collaboriamo tra di noi per la ricerca scientifica più veloce andrà avanti quanto andrà avanti dipende da da noi al momento non te lo so dire perché siamo in un periodo anche abbastanza incerto incrociando le dita io spero che questo processo continui abbastanza perché se noi siamo riusciti a fare tutti questi progressi in pochi secoli immagina cosa riusciremo a fare con questo con questa velocità di progresso tecnologico con altri mille anni del genere mille solo mille solo mille che sono praticamente dal medioevo ad oggi non tanto sono solo mille solo mille anni e noi potremo essere in giro per la galassia potremo aver sconfitto tutte le malattie potremo vivere sulla terra trasformando i pianeti in dei parchi dove vivere per noi umani e portare via tutte le cose inquinanti dalla terra potremo salvaguardare gli ecosistemi e cercare di trasformare la terra in un posto che sia una specie di arca per la vita e possiamo iniziare a costruire città su Marte e sulla Luna andando via verso l'esterno del sistema solare esploratori partiranno con l'obiettivo di arrivare su Plutone o su altri oggetti molto lontani per il gusto di farlo e ci sfideremo tra di noi non in guerre che sono stupide ma in chi riesce a esplorare i posti più straordinari come corse per la Polo Sud come è stato all'inizio del Novecento e cose così sarebbe bello mi sono perso un po' di donazioni e commenti allora andando velocemente Alessandro Bruni chiede i buchi neri hanno una grandezza massima se sì se due buchi neri vicino a questa soglia si fondessero dove andrebbe la materia in eccesso c'è un freno dal punto di vista dei buchi neri integrato nella natura in pratica quando il buchi neri diventa enorme gigantesco inizia ruota così tanto velocemente che la materia che cade verso l'interno in realtà non ce la fa cadere dentro il buco nero quindi a un certo punto i buchi neri diventano troppo grossi per poter crescere ancora però sì se si fondano ancora tra di loro nessun problema possono ancora crescere per quanto ne sappiamo non c'è per forza un limite massimo a quanto i buchi neri crescono fondendosi insieme solo che dopo diventa molto molto più difficile crescere il piano piano rallenta dovrebbe essere un evento estremamente raro e improbabile perché poi dopo gli oggetti si allontano tra di loro per via dell'espansione accelerata dell'universo comunque se vi incuriosisce la massa dei buchi neri ho fatto un intero video solo dedicato a questo su quali sono i 10 buchi neri più massicci nell'universo e anche uno in cui ho mostrato i 7 buchi neri più vicini a noi Saverio Cuttolo ciao Adrian ciao grazie di cuore per la donazione ricordando allora ridomando quando avremo la foto del buco nero di Sagittarius ah scusa avevo letto male la domanda lo schermo da quelle domande è lontano quindi a volte faccio fatica a leggere bene ed è vero che c'è un buco nero vicino a noi pianeta 9 mi sembra ti voglio bene tvb anch'io e allora prima di tutto i buchi neri per quanto ne sappiamo se sono molto piccoli di dimensioni di stelle per esempio se non hanno nulla intorno a loro non sono identificabili a meno che per puro culo noi non vediamo una stella in lontananza il buco nero passa davanti e piega lo spazio intorno e quindi vediamo distorta la luce di quella stella e quindi ci accorgiamo che il buco nero è passato di lì però a parte questo non abbiamo alcun modo di osservare i buchi neri non rilasciano alcun tipo di luce se mangiano qualcosa intorno allora sì hanno un disco vicino quello sarà brillante e quello riusciamo a vederlo quindi se ci fosse un buco nero delle dimensioni del sole tipo un anno luce e basta da noi al momento a meno che non siamo in grado di osservare per caso una stella che è sullo sfondo non lo vediamo potrebbe tranquillamente essere lì però c'è un però quando i buchi neri essendo molto massicci si avvicinano a sistemi solari tendono a creare un po' di problemi spostano orbite eccetera e quindi quello riusciremo a vederlo dovremmo riuscire a vedere gli effetti di un buco nero per cui si vedrebbe molto velocemente l'effetto di un buco nero di questo tipo alcuni ipotizzavano che il pianeta 9 fosse un buco nero però adesso non abbiamo modo di accertarci che non lo sia però è molto improbabile perché non abbiamo mai visto buchi neri così piccoli nelle vicinanze e quindi sarebbe molto 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 più facile che fosse un pianeta per quanto riguarda la tua prima domanda quando avremo la foto di Sagittarius ci stanno ancora lavorando è molto più polverosa perché la foto del buco nero dentro la nostra galassia l'abbiamo scattata da dentro la galassia guardando verso l'interno per cui essendo dentro la galassia abbiamo tutta la polvere in mezzo non era facile riuscire a scattarla ad alta risoluzione però arriverà l'hanno già scattata per cui probabilmente se non quest'anno l'anno prossimo vedremo anche quella foto BotixBanny chiede cosa succede se una stella dei neutroni viene assorbita da un buco nero ottima domanda siamo molto curiosi in realtà di vedere come viene fatta a pezzi cioè la stella normalmente quando si avvicina a una stella a un buco nero i strati esterni vengono tolti sempre di più a cipolla mentre la stella cade verso l'interno e poi alla fine mancando la pressione esterna il nucleo della stella rimane ancora molto compatto però si spegne piano piano semplicemente perché manca la pressione che mantiene le condizioni presenti lì quindi viene strappata dai strati esterni poi rimane soltanto il nucleo come nena bianca e poi si pensa che anche quello venga ucciso è fine per quanto riguarda invece le stelle a neutroni non abbiamo idea di come potrebbe essere aperta se magari essendo molto compatti entrambi gli oggetti avviene una fusione simile ai buchi neri la buona notizia è che se qualcosa del genere avviene quindi la collisione tra una stella a neutroni e un buco nero il modo in cui perdono energia sotto forma di onde gravitazionali sarà diverso rispetto alla collisione tra due buchi neri questo lo sappiamo già con certezza perché abbiamo visto i modelli dal punto di vista teorico come cambiano quindi abbiamo rivelatori in posto come l'igo e virgo e prossimamente quando troveremo altre collisioni di buchi neri o altri oggetti massicci e vedremo onde gravitazionali può essere che una delle collisioni sia da una stella a neutroni e un buco nero in fondo abbiamo già visto la collisione tra due stelle a neutroni e ci sono dei sospetti anche tra quelli che abbiamo visto candidate che ancora sono in fase di studio che forse abbiamo visto la collisione tra una stella a neutroni e un buco nero non siamo certissimi però è possibile che l'abbiamo già visto e a quel punto una volta che siamo certi possiamo capire di preciso cosa succede che differenza c'è demon chiede se ci sono buchi neri potenzialmente pericolosi tutti sono potenzialmente pericolosi beh se intendi se passano vicino a noi non conosciamo buchi neri così vicini da essere una minaccia per noi quello no a meno che non ne creiamo qui sulla terra non ci sono buchi neri qui nelle vicinanze Luca Passo chiede ma i buchi neri si muovono potrebbe passare uno nelle nostre vicinanze sì assolutamente può essere che un buco nero passi di qui ma per adesso non ne abbiamo trovato il più vicino a noi è intorno a 3000 anni luce qualcosa del genere comunque ho fatto un intero video sui 7 più vicini a noi e parlo in dettaglio di uno di loro e lo trovate qui sul canale cercando buchi neri vicini Masse Masse Vg Vcg scusa chiede secondo te verso che anni riusciremo ad avere questa nuova rete di telescopi di cui parlavi prima soprattutto quello sulla luna dipende da quanti fondi verranno dati per l'esplorazione lunare e che cosa abbiamo intenzione di fare sul lungo termine sulla luna quindi finché le persone penseranno che la luna è noiosa non avremo molta pressione poi dopo su agenzie governi eccetera per spendere più soldi in quella direzione di sicuro sarebbe molto bello riuscire a averli già in questo decennio incrociando le dita io spero che già prima della fine degli anni 20 potremmo avere una base sulla luna e a quel punto pensare negli anni 30 di costruire qualcosa di più grande come appunto un telescopio o anche una rete di telescopi sulla luna la Cina ha già iniziato a fare delle prove con radiotelescopi dalla parte opposta della luna essendo dalla parte opposta lontano dal rumore di radio della terra è ancora meglio rispetto ad averlo su questa parte quindi potremmo avere telescopi da entrambi i lati e riuscire a vedere magari avere dei vantaggi per quello su questo lato ha il vantaggio della comunicazione più facile con la terra sull'altro lato è il silenzio però devi avere il satellite che si fa da tramite per comunicare perché se no non lo vedi perché la terra e la luna si mostrano sempre la stessa faccia però ecco ci sono già i primi passi in quella direzione oh grazie di cuore alla donazione di rafcom cam cam si giusto ciao adrian sei un grande grazie grazie ti abbraccio forte come è possibile che l'universo appena nato è molto piccolo e data l'enorme massa non sia colossato in un unico immenso buco nero grande e comprendente tutti gli atomi quando il buco nero quando scusate l'universo è iniziato appunto dicevo ci sono delle somiglianze per quanto riguarda le singolarità ma non è non è così facile paragonare un buco nero è qualcosa di unico il big bang è stato qualcosa di diverso e ora tra l'altro piccola parentesi poi dopo magari ci torniamo con più calma una live dedicata al big bang quando diciamo big bang non ci si riferisce all'inizio dell'universo tutti pensano subito a quello ma in realtà è più è simile a quando diciamo la teoria dell'evoluzione la teoria dell'evoluzione non racconta come è nata la vita ma come si evolvono le specie quindi una volta nata la vita in che modo l'evoluzione ha creato tutta la diversità che vediamo delle forme di vita la teoria riguarda come è nata la vita è la teoria della biogenesi una teoria diversa quindi quando parliamo del big bang il big bang racconta come l'universo si è evoluto non come è nato quindi quello che viene chiamato esplosione eccetera non è un'esplosione l'universo ha iniziato a espandersi quello che il big bang spiega insieme all'inflazione e tutti gli altri modelli correttivi materia oscura energia oscura eccetera è come si passa da un singolo puntino all'universo che conosciamo che cosa che cosa c'era prima di quel singolo puntino e come mai quel singolo puntino si è comportato così non è campo del big bang richiede un'altra serie di teorie che riguardano appunto come pensiamo al tempo il multiverso eccetera eccetera sono più ambienti di quel riguardano più quel campo per cui quando sentite parlare di big bang pensate evoluzione dell'universo come cambia nel tempo ok francesco francesco chiede come morirebbe un buco nero a causa della radiazione di hawking perché perde abbastanza energia da rimpicciolirsi perde energia quindi perde massa per questo quando vedete le equazioni di einstein in cui c'è scritto e uguale mc al quadrato c'è una e di energia e una m di massa perché c'è un'equivalenza tra le due potete passare da una all'altra su instagram se andate a cercare sul mio instagram ho pubblicato un mini video di einstein stesso negli anni 30 che racconta la teoria della relatività per cui se volete sentire einstein con la sua voce se non l'avete mai sentito tra l'altro dovete sentirlo che racconta come si comportano i buchi neri e che cosa beh non tanto i buchi neri come si comporta il tempo e che cosa è la relatività andate sul mio instagram e trovate era tipo settimana scorsa uno dei post più recenti scorrete sotto e vedete il video di einstein con la sua voce che racconta la relatività che è meravigliosa emozionante comunque se volete sentire Hawking invece su youtube c'è un'intera conferenza invece su come Hawking ha scoperto la teoria che porta al nome riguardo la perdita di informazione intorno al buco nero eccetera eccetera e siamo ancora incerti riguardo alla sua presenza la presenza scusate di radiazione di Hawking però sembra sempre più probabile che in futuro verrà trovata se non altro di modelli qui sulla terra in mini buchi neri che potremmo creare qui sul nostro pianeta quello si che sarà eccitante da vedere tra l'altro vediamo mi sono perso un po' di donazioni quindi facendo un rapido riassunto torre falanga davide capozzi capozzi madonna ragazzi mi dispiace tanto se ho sbagliato i nomi flomix grazie di cuore massimiliano testa severo cuttolo l'avevo detto forse bre paolo torre falanga mattos anis e alex ciao ok non mi sono perso nessuno spero e anche eduard howard dennis ballan roberto marasca raffael egloff pulsar 70 michele michele mancini cavaliere nero 71 e demone adesso ce l'ho fatta mi devo mettere dei sticker per me bravo adrian sei riuscito mi dispiace sempre che non riesco a vedere tutti quanti i commenti e sarei tutta la notte a rispondere alle vostre domande ma poi dopo qualcuno che guarda la live e vede due ore interi di live si mette le mani nei capelli mario pennelli chiede in cosa si espande l'universo e a chi toglie spazio a niente non si espande in qualcosa l'universo è tutto l'universo si espande semplicemente e basta in se stesso in un certo senso non si espande in qualcosa non c'è un bordo dell'universo non c'è un posto dove potete andare e dire ok qui finisce l'universo si espande in questa direzione e qui c'è il nulla in cui si espande non funziona in questo modo l'universo diventa più grande si espande accelera anche la velocità qui diventa sempre più grande ma non si espande in un bel nulla e se vi sembra incomprensibile è perché noi stiamo cercando di capire qualcosa per cui i nostri cervelli non sono adatti in generale la matematica è sempre così quindi noi non siamo elementi molto matematiche cioè la matematica non è una cosa innata a cui siamo predisposti è un po' un trucco è come se hackerassimo il sistema ci dessimo poteri più grandi di quello che il nostro cervello ha di default con la matematica che abbiamo inventato che poi dipende da come l'ha guardata la situazione perché è stato il nostro cervello a poi inventare inventarsi tutti questi trucchi della matematica e trovare teorie in giro con cui migliorare la nostra comprensione dell'universo però fondamentalmente noi non siamo adatti a pensare a logaritmi dalla nascita è una cosa a cui ci alleniamo ed è così anche per questi concetti se voi pensate a come è fatto l'universo sembra completamente controintuitivo e senza senso rispetto alla nostra comprensione quotidiana però è così se pensate alla gravità e se pensate che un oggetto cade da un punto A a un punto B verso la superficie della Terra cade non perché è attratto da una forza ma perché lo spazio tra qui e qui è curvo e mentre cade la sua massa relativa aumenta e il tempo per lui che si muove scorre diversamente rispetto a me che sono fermo beh provate a immaginarvelo e pensare che questo ha senso e questo capita di continuo intorno a voi ogni volta che voi vi alzate e camminate rispetto a chi è fermo il vostro orologio scorre in maniera diversa l'abbiamo anche misurato abbiamo messo orologi molto precisi in aerei e l'abbiamo lanciato in volo in giro per la Terra poi abbiamo misurato la differenza tra orologi sull'aereo e sulla Terra e sono diversi il tempo scorre diversamente quando ci si muove Hunter Thomas chiede all'energia che viene accelerata alla velocità della luce da un buco nero è possibile che venga spostata nello spazio e tempo allora non viene accelerata in realtà alla velocità della luce prossima come avete visto la materia che viene lanciata e le particelle che vengono lanciate arrivano 0,95 circa la velocità della luce non ha la velocità della luce perché niente in un universo neanche dandogli tutta l'energia dell'intero universo può andare alla velocità della luce mai mai vediamo Matteo Pillo chiede come è possibile che un buco nero possa girare su se stesso se lo spazio attorno a collassa lo spazio attorno appunto non collassa si muove nello spazio nello spazio è lo spazio che comprende dentro l'orizzonte degli eventi che è collassato però non è il suo spazio non è che mangia spazio è solo nel punto singolo in cui la densità è aumentata così tanto che è lì che abbiamo un orizzonte degli eventi ma intorno no puoi stare tranquillamente intorno è il tempo che scorre diversamente ma sì per il resto grazie di cuore anche a nukecaba di nuovo che chiede adrian sulla luna non sarebbe più non sarebbe più facile costruire un array come ska ska servirebbe a studiare i buchi neri ska di sicuro servirà a studiare i buchi neri perché non lo conosce è un progetto gigantesco fatto tra africa e australia con quello che sarà l'equivalente di un telescopio di un chilometro quadrato ed è una rete di telescopi sparsi che lavorano insieme con un singolo telescopio e stanno già alcuni dei primi pezzi stanno già studiando i buchi neri quando sarà completato di sicuro sarà molto di aiuto per questo tipo di indagine quindi mi aspetto che una volta completato si aggiunga la rete di telescopi di progetti come l'EHT sulla luna sarebbe sì di sicuro sarebbe comodo costruire una rete di telescopi sì questo sì però ovviamente si inizia da cose più modeste quindi prima di partire in quinta con una rete intera di telescopi vediamo se ne riusciamo a costruire uno solo Daniele Coribani ma avvicinandosi ad un buco nero il tempo non rallenta così tanto da impedire che effettivamente si attraversi l'orizzonte degli eventi non è una sorta di paradosso della relatività non perché il tempo rallenta per chi aumenta relativamente rallenta scusate relativamente se tu sei vicino a un buco nero con il tuo orologio e guardi l'orologio mentre passi e ti avvicini un'ora per te scorre comunque alla stessa velocità quindi per tu non noti niente vi ricordate in Interstellar quando gli astronauti arrivano sulla superficie del pianeta vicino al buco nero se vi ricordate lì parlavano di questo effetto e dicevano che per loro un'ora è un'ora passa in un'ora non cambia assolutamente niente e che per quell'ora per chi è fuori dal buco nero dalle vicinanze del buco nero quindi per esempio sulla terra è molto diversa perché magari sulla terra sono passati vent'anni mentre lì sono passate soltanto 60 minuti è più questo per cui se tu cadi nel buco nero tu non noti che il tempo rallenta per te rallenta semplicemente rispetto a qualcuno che è fuori non per te Samantha Cristoforetti quando era a bordo della stazione spaziale ha passato 200 giorni nello spazio a 8 km al secondo e ha viaggiato nel futuro di 7 millesimi di secondo il suo orologio però scorreva normalmente la sua durata era normale e un'ora durava un'ora esattamente come sulla terra e che poi quando è tornata il suo orologio aveva 7 millesimi di secondo in più rispetto alla terra quindi si ha viaggiato nel futuro cioè o meglio non il suo orologio gli orologi sulla terra erano 7 millesimi di secondo nel futuro ho detto il contrario Giulio Di Meglio ciao Adrian nella galassia del quasar di cui parlavi sarebbe possibile la vita come la conosciamo cosa ci vedrebbe da un pianeta posto alla stessa distanza della terra dal bulge il bulge per chi non lo conosce la zona centrale della galassia bella domanda dipende molto dalle caratteristiche della galassia da come il bulge quanto è luminoso come è orientato dove ti preciso sono i bracci della galassia perché quello dipende molto dalla morfologia se ci fosse una galassia come la nostra che è una galassia spirale sì in quel caso potresti vedere nel cielo molta più luce ma probabilmente lo vedresti in onde radio e in onde diverse come raggi X raggi gamma nella nostra galassia se cercate i dati di Fermi se cercate bulge galassia via Lattea fermi un telescopio che sta intorno alla terra che osserva l'universo in raggi gamma abbiamo trovato delle bolle gigantesche sopra e sotto il cuore della nostra galassia ci sono quindi però normalmente quando le immaginiamo quando le vediamo la via Lattea nel cielo non vediamo queste bolle ma quelle bolle ci sono e sono create da passata attività del buco nero di Sagittario per cui quando il buco nero nella nostra galassia aveva a sua volta mangiato le stelle vicine a sé aveva creato questi getti lunghissimi che colpendo lo spazio intergalattico tutto il gas sottile che è presente lì l'aveva ionizzato creando queste gigantesche bolle che però sono visibili se lo guardiamo in raggi gamma ma non sono visibili in luce ottica quindi è possibile che una forma di vita su un pianetale vicino se ha dei telescopi o dei occhi particolari veda nel cielo delle cose gigantesche è anche vero che però stiamo parlando di un quasar quindi è possibile che la luce sia così tanto più intensa che il bulge si vede come una singola zona molto luminosa molto più luminosa rispetto a qui quindi da questo punto di vista se dovessi scegliere ti direi che probabilmente il grosso della luce arriva in altre lunghezze d'onda non soltanto in luce ottica però molto arriva anche in luce ottica e di sicuro il bulge sarebbe molte volte più luminoso rispetto a quelle che vediamo nella nostra galassia però è anche vero che non credo ci sia molta letteratura scientifica su questo per cui no lo so madame analisa buonasera buonasera anche a te buonasera a tutti voi arrivati di recente e tra l'altro colgo l'occasione prima di salutarvi di ricordarvi che l'ospite artista di questa serata è la meravigliosa e fantastica e adorabile Alice Bad Taste che dovete assolutamente seguire su Instagram andate a vedere il link in descrizione e lei mi ha creato questa illustrazione stupenda di uno dei miei mostri di fantascienza preferito che è anche il mio venusiano preferito e se non conoscete il film conoscevatelo ma prima di tutto andate a salutare Alice da parte mia su Instagram e fa un sacco di cose meravigliose a parte disegni ma fa anche sticker cose badge mi ha mandato non ce l'ho qui ma ve lo farò vedere nella prossima live cavolo non ce l'ho appena portata però mi ha mandato un sacco di cose di badge che posso mettere su pizza no ce n'è uno sulla pizza non si mettono i badge sulle pizze oh mio dio sono fuso dall'aver parlato di buco nero per così tanto tempo ah ok ultime domande e poi vi saluto prima di iniziare a parlare di badge sulle pizze Lorenzo Nespori chiede se il buco nero può essere un universo no perché al momento il buco nero non pensiamo che entrappoli materia e la lanci da qualche parte quindi dentro il buco nero la materia è collassata verso il centro in una singolarità minuscola piccolissima quindi non c'è dentro non esce da un'altra parte che crea chissà cosa ok Alessandro De Luca chiede come potrebbe apparire la superficie di un buco nero beh se sei sotto l'orizzonte degli eventi sotto diciamo il suo l'orizzonte degli eventi non vede niente quindi quando vedete i buchi neri ricordatevi che quello che vedete è la zona più esterna oltre la quale la luce non può sfuggire quindi come ve lo racconto se noi prendiamo mille soli e li schiacciamo insieme in un buco nero il nostro buco nero è delle dimensioni di un punto minuscolo non abbiamo idea se sia un punto matematico singolo oppure se sia grande come un'arancia perché semplicemente non abbiamo alcuna teoria per vedere quanto piccolo è però per quanto ne sappiamo nei nostri modelli la densità aumenta infinitamente verso l'alto e il volume aumenta infinitamente verso il basso questo significa che quindi immaginiamolo come un singolo punto anche se è un miliardo di volte la massa del sole punto è quindi cos'è che vediamo quando si dice che il buco nero è grande che non so quanto è la terra o 20 km o grande come il sistema solare non è il buco nero in sé quello che vediamo la zona intorno è quello che viene chiamato orizzonte degli eventi cioè è la zona distante dal buco nero entro cui il buco nero riesce a intrappolare tutto quindi se il buco nero è qui va bene e se ce ne andiamo lontano ci sarà un punto anzi ve lo faccio vedere direttamente sulla maglietta ce l'ho qui quindi il buco nero è qui al centro man mano che ce ne andiamo lontano ci sarà un punto oltre al quale se sei più vicino al buco nero allora cadi dentro non puoi mai mai più uscire se sei qui all'ascella quindi dall'ascella puoi andartene dall'ombilico no capezzolo muori ascella e ce la puoi ancora fare molto strano per raccontarlo ok oppure immaginate di remare con una barca quindi se siete sul bordo del buco nero di questo buco dentro insomma sempre in due dimensioni su un lago se remate abbastanza forte allora avete delle chance per sopravvivere perché siete magari abbastanza lontano tipo qui a zona capezzolo se dove è il mio capezzolo non so ah qui e adrian cerca i capezzoli in là se siete abbastanza lontani ce la fate se non siete abbastanza lontani siete anche se remate alla veloce della luce siete comunque fregati perché finirete dentro il buco nero questa è la fregatura di come noi pensiamo a queste cose noi le immaginiamo al massimo in 2D ma ci sfugge il modo di immaginarle in 3D e capire che i buchi neri non sono oggetti di dimensioni noi vediamo gli effetti dei buchi neri e basta vediamo solo l'effetto l'orizzonte ai 20 fine non vediamo cosa c'è al centro non vediamo in sé il buco nero anche quando si parla delle foto dei buchi neri in questo caso si parla della foto di quello che circonda il buco nero tutto intorno ma non non di in sé il puntino very hot si proprio gelocitric chiede se ovunque c'è massa c'è lo stesso effetto delle evaporazioni dei buchi neri no o allora no quello che succede nei buchi neri succede solo nei buchi neri perché una delle particelle finisce fuori quello che succede sulla vostra pelle in questo momento ci sono fotoni che nascono con i loro beh allora sono particelle virtuali che nascono insieme sulla vostra pelle e si anichiliscono insieme sulla vostra pelle l'universo fa questa cosa di continuo non nessuno nota niente ok ultima domanda e poi dopo vi saluto bre paolo chiede a cosa ci servirebbe scoprire cosa c'è dentro un buco nero perché al momento tutte le nostre migliori teorie su come funziona la gravità come funziona la quantistica la relatività l'universo stesso tutta la realtà che abbiamo intorno il tempo lo spazio si basa su le teorie che abbiamo già testato sulla terra ma che non abbiamo un posto più estremo dove testarle e se scopriamo che parte delle teorie che abbiamo sono diverse da come le abbiamo immaginate abbiamo capito qualcosa di fondamentalmente diverso e nuovo riguardo all'intero universo ora ti spiego questo quando per esempio i primi fisici quantistici lavoravano sulla luce si cercavano di capire come funzionano i singoli atomi cercavano di capire per esempio com'è possibile che alcuni atomi si comportino in un certo modo e altri in modo diverso ed era possibile per esempio capire esattamente dov'è un elettrone molti rappresentavano gli atomi con dei mini sistemi solari ma abbiamo scoperto che non è possibile farli vederli così perché le particele non possono essere viste singolarmente in questo modo poi devi pensarle come una nube di probabilità cioè può essere più o meno qui o più o meno lì tutto all'ambito della fisica quantistica eccetera eccetera rivoluzioni spaventose fondamentalmente quello è stato l'inizio della fisica quantistica della rivoluzione anche del modo di pensare i materiali e i loro comportamenti quei studi sugli atomi ci hanno permesso poi di avere cose come i semiconduttori e ci hanno permesso di miniaturizzare il transistor da grandi così quanto alla tua testa fino alle dimensioni di batteri e siamo riusciti ora ad avere transistor così piccoli che in una superficie di pochi millimetri puoi averne miliardi questo significa che è una potenza di calcolo spaventosamente alta per fare circuiti integrati e computer interi delle dimensioni della tua mano quindi quei singoli studi su come si comportano gli atomi che erano qualcosa nell'ottocento che sembrava la cosa più inutile da studiare al mondo ha completamente un secolo dopo rivoluzionato il mondo intero e ora noi ci basiamo su quello e lo diamo per scontato e siamo qui a chiederci vabbè ma che ce ne facciamo di capire come funzionano i buchi neri quindi se non per il gusto stesso di amore per il sapere per l'idea stessa che vale la pena conoscere l'universo allora in senso pratico se non altro pensiamo che possa essere utile non per forza ora in questo momento ma anche a vale e alcuni dei effetti positivi di quelli che studiamo ora per i buchi neri si vedono già per esempio quando abbiamo ottenuto i dati riguardo i vari telescopi sparsi per il pianeta come vi dicevo prima della vediamo se riesco a rifarvela vedere al volo vi ricordate che vi dicevo prima di questa qui della collaborazione tra tantissimi diversi telescopi che hanno lavorato insieme per mettere insieme la foto del primo buco nero beh riuscire a ottenere così tanti dati e poi farli lavorare insieme per ottenere una singola immagine è qualcosa che non avevamo mai fatto prima e riuscire a fare questa singola foto ha richiesto delle vere e proprie rivoluzioni in modo di pensare a machine learning intelligenza artificiale e uso di tanti dati e come mettiamo insieme dati da fonti diverse e ora ci sono diversi ospedali che stanno lavorando su modelli venuti fuori da questo studio per cercare di fare delle radiografie in diretta del corpo umano in 3D di tutto quanto il corpo quindi immaginatevi voi di andare in ospedale e vi fanno una scansione di tutto il corpo con tutti gli organi mentre funzionano vedendo in diretta come scorre il vostro sangue come si comporta linfociti come si comporta il cervello il cuore il fegato tutto insieme contemporaneamente come un unico sistema la quantità di dati dietro è spaventosamente alta e non abbiamo idea di come mettere insieme e come riuscire a creare qualcosa di così dettagliato quindi cose che facciamo in ambiti estremi come lo studio del Buchi Neri dal punto di vista di lavoro pratico anche di come mettere insieme i dati stanno già aiutando tanti altri ambiti anche la medicina stessa così come viceversa cose che facciamo in altri ambiti aiutano l'astronomia per cui avere campi in cui sfidiamo i nostri limiti in cui cerchiamo di andare oltre quello di cui siamo già stati finora stati capaci è uno dei modi migliori per cercare di innovare e di rivoluzionare il nostro modo di fare tecnologia e di pensarci e le ripercursioni anche solo di vedere questi oggetti al di là di tutta la parte pratica hanno anche un aspetto positivo secondo me più difficile da cogliere per il semplice senso di meraviglia perché finché noi riusciamo a guardare oltre i nostri divisioni i nostri limiti riusciamo a collaborare per cose che sono più grandi di singole nazioni e singoli battibecchi o discussioni in queste ore per esempio c'è un sacco di discussioni riguardo con toni molto amari riguardo all'Europa e paesi che fregano altri paesi e mille discussioni avere la scienza come punto e ponte in comune tra tutte le nazioni al di là delle nostre differenze su mille altri argomenti può permetterci di restare insieme ed è molto importante avere questo questo campo in comune ora più che mai per evitare che le fratture che ci creano su altri modi di affrontare le crisi eccetera le difficoltà possano dividerci perché se noi ci lasciamo dividere ora quando ce ne accorgeremo che siamo troppo divisi sarà troppo tardi e la scienza è fondamentale per evitare che a Vale si finisca in una situazione per cui ci odiamo tra di noi e ci chiediamo come siamo finiti da poter viaggiare in giro per l'Europa e volerci bene tra tutti a odiarci o finire in guerra queste cose non succedono da un giorno all'altro le fratture nascono già prima e dobbiamo stare attenti ora per questo la scienza è molto più importante al di là di soltanto le scoperte perché lavorare insieme specialmente in questi team tipo per riuscire a fare questa singola foto abbiamo dovuto lavorare con migliaia di scienziati presenti in tutti i continenti in decine di nazioni migliaia di scienziati con ognuno provenienze diverse università diverse che devono mettersi d'accordo e quindi nazioni che devono per forza lavorare insieme la stazione spaziale stessa è internazionale non solo per modo di dire ma anche nel termine pratico ci sono tantissime nazioni che collaborano insieme e se vogliamo mantenere la stazione spaziale dobbiamo lavorare insieme il CERN è un altro ottimo esempio l'HC il gigantesco acceleratore di particelle che abbiamo in Ginevra a cui lavorano migliaia di scienziati da tutte le nazioni del mondo di nuovo quindi sì abbiamo bisogno di questi obiettivi che uniscono l'umanità come umanità di fronte alla natura alla scienza e alle sfide più grandi al di là di singole nazioni e differenze ok detto questo grazie di cuore come sempre ho fatto più tardi del solito vi abbraccio fortissimo grazie di cuore anche a lice bad taste un'ultima volta per essere stato presente in questa puntata con la sua meravigliosa opera il venusiano che mi tira sempre su di morale un abbraccio a tutti voi continuate ad essere meravigliosi e mi raccomando qualsiasi cosa succeda a voi fiducia nella scienza fiducia in noi stessi e vogliamoci bene specialmente ora in questo momento in cui tutti tendono a litigare tanto ricordatevi che qualsiasi sfida abbiamo di fronte a noi più ci dividiamo meno chance avremo di vincerla grazie ancora un abbraccio grazie a tutti i nostri spettatori